ciao a tutti amici del canale oggi siamo qui con una nuova video recensione allora oggi abbiamo un bellissimo pezzo è il secondo di questo marchio che recensisco e si tratta dello jean admiral precisamente referenza l3 62 0.4 allora è questo orologio io mi dico la verità non sempre non che non l'ho considerato però non non è non è uno di quelli che si vede sempre in giro praticamente perché comunque la gente con lo jean si butta su altre tipologie almeno io parlo sempre della mia esperienza personale di quello che vedo io poi ovviamente magari un'altra persona può vedere un altro punto di vista io da quello della mia esperienza in questo mondo non è un orologio che vedo tutti i giorni praticamente però devo dire la verità mi è capitata l'occasione sempre con gentile concessione di guardarlo e devo dire che ci sono di delle delle cose che mi piacciono delle cose un po meno però nel complesso devo dire che un orologio molto bello comunque adesso lo avviciniamo alla camera così lo possiamo vedere meglio ed eccolo qui ragazzi da vicino lo jean admiral allora cosa possiamo dire allora prima di tutto è difficilissimo fare delle inquadrature perché davvero tutto lucido in una cassa tutta lucida il quadrante non aiuta perché un grigio bronzo scuro marrone con finitura solelli quindi vi dico da adesso che le delle le riprese mi sono venute veramente difficili anche facendo l'orologio in vetrina non mi sono venute veramente bene ripeto io non sono un tecnico quindi cerco di fare del mio meglio per però con questo orologio dove l'avete ha avuto un po di difficoltà ma comunque nel complesso si si vede allora il quadrante è classico di impostazione logine perché abbiamo 12 9 6 con i grandi numeri che sono applicati molto bene mi piace ecco così si vede l'applicazione degli indici che sia quelli numerici che sia quelli a barretta che hanno anche il punto luminoso luminescenza normale niente di così eccezionale poi per la finestrella data con la la cornice argentata e poi abbiamo subis made automatic molto pulito un quadrante venne pulito lancette c'è secondo me con le lancette si poteva lavorare meglio però comunque alla fine una scelta del marchio c'è chi piace c'è chi no secondo me si poteva lavorare come anche quella dei secondi però secondo me forse quella dei secondi ha voluto seguire lo stile del della cassa e di tutto il colore in generale allora e vediamo se ci riesco la corona a vite un orologio con corona a vite la ghiera e vediamo ecco qua no con i guanti veramente difficili ecco ci sono riuscito non è una ghiera unidirezionale e bidirezionale quindi tipo vostro che giusto per intenderci devo usare i guanti devo togliere i guanti vediamo se ci riesco ad utilizzarla giusto per essere precisi ecco qui allora la ghiera è bellissima perché comunque al simbolo di login qui la crescidra con le ali ore 12 e poi ovviamente viene ripresa sul quadrante ovviamente caro manuale automatico è veramente molto come misure vediamo subito prendo un attimo il calibro un attimo facciamo tutto in diretta allora vediamo col calibro allora compresa la corona compresa la corona siamo sui 40 compresa corona compresa senza corona siamo sui 36 si 36 30 37 compresa senza corona 37 poi abbiamo il bracciale che ha uno spessore di 20 e lo spessore è di 9.7 spostato ecco qui 9.7 ed eccolo qua abbiamo preso un po di misure allora per me la parte oltre vabbè il fondello lo vedremo tra poco ma la corona è ovviamente logata molto bella è incassata con questa spalla lunga tipo che va a incastrarsi tipo delle spalle che vanno sembra un'unica spalla poi alla fine è una però c'è lo spazietto poi per la corona che alloggiate che ha vite allora per quanto riguarda il fondello è molto bello ma una parte secondo me di questo orologio molto bella è il bracciale bracciale come potete ammirare è veramente veramente bello è tutto lucido ma questi incastri questi disegni veramente fatti bene con tutti i perni a pin e il bracciale come avete potuto intuire è a farfalla doppio snodo non ha polsanti ma è a incastro ecco qui veramente pulitissima c'è un disegno veramente fatto bene ne approfittiamo per vedere il magnifico fondello che a me piace tantissimo admiral lo jean swiss made tutti i numeri ovviamente a bullone a vite ed è veramente bello mi piace anche il fatto di come sono incastrate fra le anze il bracciale che in generale come proporzione ci siamo ecco le misure sono perfette se proprio dobbiamo parlare di misure le misure sono veramente perfette un orologio alla fine armonioso ripeto da quello e dalla mia esperienza nel campo di questo settore cioè come appassionato non ho visti tanti in giro cioè vedo sempre più i classici va bene le gen diver oppure tipo quelli un po più eleganti ma non questo questo qui non l'ho l'admiral non l'ho visto tanto nella mia esperienza da appassionato ma devo infatti quando l'ho visto l'ho voluto subito vedere e devo dire la verità che alla fine ci sono dei particolari del quadrante che non mi fanno impazzire nel senso secondo me è troppo sobrio sembra una parola strana ma c'è nel senso come sì per me è un po sobrio nonostante sia un orologio lucido in generi la sobrietà non va a braccetto con la lucidità quindi secondo me questo è sempre il mio punto di vista e quindi l'orologio satinato diciamo va meglio a livello di sobrietà per quanto riguarda alla fine comunque un orologio nelle proporzioni veramente fatto ne come proporzione veramente fatto bene vediamo adesso che visto che ci siamo è un po di luminescenza vi sto farvela vedere eccola qui è una classica luminescenza diciamo che non riesco a capire nemmeno se che perché oggi water resistant vediamo se c'è scritto no non c'è scritto nemmeno quanto può andare come profondità però visto che c'è la corona in vite e il fondo della vite presumo che comunque un minimo c'è allora cosa dire nel complesso è un orologio bello diciamo che cosa potevano fare secondo me potevano di più lavorare sul quadrante che come colore è molto bello potevano perché secondo me così risulta anche la ghiera per quanto sia bella dove c'è i 10 50 insomma tutte le tacche classiche della dei dave dei diver anche se non ha una corona una ghiera monodirezionale ma è bidirezionale quindi per le mesi immersioni sinceramente non lo vede adatto però alla fine l'orologio si prende anche c'è nel senso questo non per fare e andare sotto acqua comunque in modo professionale si usa altro si usano ormai tecnologie più avanzate digitali allora nel complesso per me è un bellissimo orologio la punta sua di diamante e il bracciale bracciale veramente bello questo è veramente un gioiello bracciale veramente bellissimo una bella lucidata ed esce anche se queste in condizioni molto buone è una lucidata ed esce un bellissimo orologio il quadrante è molto bello per carità lungi da me dire che brutto però secondo me sulle lancette sulle sfere potevano fare qualcosina in più la finestra data è tutta proporzionata per il resto è un bellissimo l'orologio poi login login non si sbaglia mai e niente per me la recensione finisce qui metto un attimo a fuoco e vi ringrazio per aver seguito visto questo video e mi raccomando iscrivetevi al canale commentate mettete like insomma iscrivetevi se non siete iscritti e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi